amici sportivi se c'è un regista lassù che sta disegnando il campionato questo sarà un regista candidato al premio oscar perché sto vedendo cose veramente incredibili in quattro ore abbiamo smontato teorie bronci discussioni polemiche durate quattro mesi sono le vicende del calcio strano e di una serie b che ancora più strano il palermo è settimo in classifica chi avrebbe scommesso due lire appena 15 giorni fa lo so la risposta è geraci proprio adesso poi ne parliamo però il palermo adesso è non dico in pole position perché ancora può succedere di tutto e il calendario del palermo non è esattamente favorevolissimo però il palermo in qualche maniera può decidere il proprio destino e adesso ha ritrovato anche una fiducia e un entusiasmo in città che sicuramente potranno essere un beneficio niente male saluto subito il mio capo banda fabrizio vitale ciao fabrizio eccoti qui a guido fra oltre a studiare calcio ea raccontarci cose di cronaca sei impelagato in questa difficilissima opera di tenere a bada i nostri telespettatori mentre invece se la prende più comoda salvatore seraci che sorridacchia sotto i baffi che non ha più e saluto anche giuseppe leone che inquadrato giuseppe si ecco ci va giuseppe c'è pure siamo tutti a completo di che parliamo secondo voi parliamo di quello che io vorrei definire ecco faccio un po un sommario della situazione quello che potrebbe definire il teorema di corini il teorema di corini quello dei piccoli passi lo abbiamo contestato chi più chi meno chi di più e chi anche con toni inaccettabili però in questo momento la sua politica dei piccoli passi ha avuto ragione e poi a proposito di questo io voglio fare anche una un focus niente male secondo me potrebbe anche scaturire qualche bella polemica sul tifo da stadio e il tifo da tastiera perché dove sabato c'erano 21 mila persone allo stadio non sono poche per una squadra che comunque in realtà non ha fatto mai spettacolo e non è mai arrivata propriamente all'obiettivo però 21 persone 21 mila persone contrastano con i beceri insulti e le critiche da tastiera che guarda caso anche l'altra volta con la vittoria del palermo sono dimezzati io su questo faccio polemica personalmente perché sarei contento se ci fosse un flusso costante di messaggi sia quando si perde che quando si vince invece c'è sempre un popolo pronto a contestare a vota anche giustamente magari non nei toni però giustamente e che proprio quando si vince non non ammette neanche la possibilità di replica allora intanto prima di dare subito il messaggio oggi ho perso un sacco di tempo in questo preambolo però volevo dire siete collegati con con la nostra diretta condividetela cerchiamo di fare una un oceano di un'ondata oceanica condividete come sto facendo io la diretta sul proprio profilo ampliamo questa platea e soprattutto vi lancio adesso un tanto già siamo abbiamo raccolto un bel po di persone vi lancio adesso una specie di sondaggio lo facciamo con le interazioni ci credete nei playoff se si mettete un cuoricino sulla pagina sulla pagina facebook se no mettete la faccina arrabbiata così capiremo che restate ancora sul sul diffidente andante nei confronti di questo palermo allora chiuso il preambolo do subito la parola a voi salvatore 2 a 1 sembrava comodissimo poi un po meno comodo comunque meritato è una svolta che veramente sa di pazzesco ma sai guido di cuoricini ne metterei ancora una decina sul teorema di cui parlavi tu devo dire che ho i miei dubbi nel senso che corini come ogni allenatore non farà mai una scaletta con i momenti di gloria e quelli dei piccoli passi piccoli passi casomai sono il rimedio di quando non riesci a vincere e l'interpretazione aspetta ai giocatori in campo di solito poi ci sono le qualità di una squadra è vero che questo è un campionato assolutamente anomalo come dicevi tu ma non c'è dubbio che la concretezza ti aiuterebbe insomma il palermo con la spalla ma anche in numerose altre occasioni ha fallito proprio per la mancanza di cattiveria e poi sia addirittura disunito contro la spalla che ha impiegato molti giovani poteva e doveva chiuderla prima se non ci riesci devi soltanto rammaricarti insomma il palermo dei tempi migliori era sesto in classifica certo la salvezza è già un traguardo raggiunto è il traguardo che che tutti si aspettavano il play off sarebbero un ottimo risultato però però mi resta il sospetto che non abbiamo ottenuto il risultato più prestigioso che sarebbe stato sorprendente ma che era nelle nostre corde bene mettiamo i cuoricini o le faccine arrabbiate continuate a interagire con noi in questa diretta che già sta facendo registrare un fiume di conventi poi fabrizio fra un attimo ti chiederò di farmi una sintesi del polso della nostra community del cuore rosa nero a proposito di cuore rosa nero un messaggio alla famiglia di angelo falletta un tifoso storico che purtroppo è morto per un malore mentre si accingeva a percorrere la maratonina di terrasini allora giuseppe una domanda che ti voglio fare è quella sullo stato d'animo del palermo pre partita cioè raggiunta la salvezza e avendo anche a favore i risultati delle altre concorrenti mi sembra che il palermo abbia giocato quasi come se si fosse liberato da un peso ma senza dubbio il palermo e lo ha confermato anche corini alla fine della partita era a conoscenza dei risultati più che favorevoli delle partite delle delle due del pomeriggio ed è entrato in campo colpiglio giusto questo è stato sicuramente il dato più più confortante poi diciamo l'atteggiamento non è stato come dire accompagnato del tutto dai dalla prestazione dal punto di vista tecnico come diceva giustamente totò poco fa nel quando dico questo dico che il primo tempo il palermo lo poteva chiudere almeno con tre gol di scarto ed evitare poi i patemi del del secondo tempo patemi che sono stati più che altro eh dovuti a quell'ansia di portare finalmente a casa dopo tanto tempo una vittoria più che i pericoli che ha corso il palermo e piacelli per colpa della della spalla però è chiaro che la partita si è si è complicata eh il fischio finale ha scrollato sicuramente di dosso tante tante ansie e tante paure e ora è con questo atteggiamento più leggero più eh più tranquillo anche per il fatto che ora c'è anche una eh una salvezza matematicamente raggiunta e con questo atteggiamento che il palermo deve affrontare le ultime due partite di campionato per andare a centrare anche il traguardo playoff non ho visto il tuo risponso con con i cuoricini o con la faccina arrabbiata giuseppe che cosa metti mettilo metti metti qualcosa se no ti controlliamo è inutile che lo diciamo alla gente tu che lo perdiamo lo perdiamo dalla messa in onda lo perdiamo dalla messa in onda tu cosa hai messo cuoricino no io ancora non ho messo niente mi sto limitando un po' a leggere qual è il posto ma io sono positivo per natura quindi nel momento in cui c'è una zona playoff che è stata per il momento raggiunta credo che ci siano le possibilità di lottare per per mantenerla è chiaro che questo palermo che nel caso arrivasse ai playoff non è che avrebbe un percorso facilissimo perché o partirebbe da settimo se riesce a mantenere il settimo posto d'ottavo cioè è tutta una partenza in salita stavo guardando un po' la nostra community il polso della situazione di chi ci ascolta di chi critica di chi si è rinfrancato dopo questa vittoria c'è anche come leonardo ferdico rosanero che è il nostro assidio ascoltatore che dice non mi fido ancora di corini siamo al settimo posto anche per le disgrazie altrui reggina oppure per l'arachiri del pisa se non facciamo punta a caglia di tutto diventa difficile a tale proposito però vorrei ricordare che l'anno scorso il palermo è andato ai playoff da terzo per le disgrazie di un'altra squadra il catania se no avrebbe fatto i playoff da quinto e non sappiamo come sarebbe andata mi piace mi piace vedere però la coerenza nella valutazione dello stesso argomento perché il palermo è andato in serie b l'anno scorso ringraziando il catania quest'anno probabilmente se ci riesce fra i playoff ringraziando altre disgrazie altrui sì ma poi dico è inutile discutere dei sei dei ma se non avessero annullato il gol di bro sarebbe stato più facile se ci avessero dato un rigore contro sarebbe stato più difficile i sei ma purtroppo non servono e poi vorrei anche aggiungere che non è mai bello beneficiare di disgrazie altrui però se la regina non paga gli stipendi o il parma è in ritardo e il siti gruppo è puntuale questi sono anche aspetti che fanno parte dello stesso lo stesso contenitore detto questo però è chiaro che ci si aspetta dal parermo due ultime giornate giocate con un piglio e una lucidità leggermente diversa da quelle viste con la spalla perché con la spalla abbiamo visto il tutto e niente abbiamo visto un primo tempo stratosferico contro una squadra in evidente difficoltà macchiato da due rigor da due errori sottoporta soprattutto uno quello di tuttino il primo tempo incredibile lo stesso tuttino avrebbe potuto fare il terzo gol in avvio di ripresa e poi è salita l'ansia come al solito è chiaro che adesso la speranza è che la mentalità nell'approccio a queste due partite a cominciare da cagliari sia più sereno quantomeno sì ansia che non c'è dubbio che questa squadra abbia dei cali di concentrazione e improvvisi ed anche un direi anche da un punto di vista fisico non è che mi pare che abbia chiuso come aveva fatto il primo tempo che ci sono delle cose sono d'accordo sono d'accordo perché sono ancora delle cose inspiegabili ecco questa è la cosa che mi tormenta bravo a me pure perché verre dura soltanto un tempo e non può essere solo un'influenza a causare un'influenza di un mese fa a causare questo molti giocatori sono usciti con i crampi è vero che sono giocatori anche magari spremuti un pochettino e che guarda caso buttalo è il più fresco di tutti è quello che corre di più però ecco non mi sembra che sia una condizione fisica smagliante anche se poi corini dice il contrario lui ha anche il supporto degli strumenti computerizzati però dico fabrizio per tornare al discorso centrale il teorema corini quello dei piccoli passi che abbiamo contestato chi più chi meno alla fine sta dando i suoi frutti ma io non credo che corini avesse elaborato questo teorema a priori perché conoscendolo un po credo che lui più di tutti tenga a fare bene con questa squadra l'ho anche rimarcato qualora ce ne fosse stato bisogno dopo la gara con la spalle evidenziando ancora una volta quanto lui è attaccato a questi colori quanto lui è attaccato a questa squadra che gli ha regalato una seconda giovinezza quando era calciatore per cui io credo che il primo a voler vincere determinate partite che gli sono rimaste sul gruppone sia proprio lui è chiaro che alla fine non perdere può fare la differenza in questo finale il confine è sottilissimo lo sappiamo un po tutti quanti però sai un conto è giocare rischiare anche di andare a vincere rischiando di perdere un conto è dire questa mossa non la faccio perché fra i possibili benefici e i possibili documenti rischi preferisco comunque dare la continuità del risultato che in altri campionati probabilmente non avrebbe pagato in questa serie b piena di pareggi alla fine ha pagato perché se è vero che hai pareggiato tantissimo hai vinto anche poco però hai perso veramente poco pochissimo e questo è un campionato secondo me con gli andamenti tipici lo ravvedo in altre situazioni di altri campionati di serie b dove i valori sono sempre un po più compressi e non dilatati come possono succedere ricordiamo che un campionato di serie b come questo non si era visto due giornate dalla fine non avere ancora una retrocessa aritmetica io avrei preferito qualcosa di singolare io avrei preferito cinque pareggi meno e cinque vittorie in più ma non c'è dubbio non c'è dubbio ma credo che anche corini lo avrebbe preferito però quando hai una partita che non ti dà segnali incoraggianti verso la vittoria un forse un allenatore dice allora intanto non le prendo non perdo non perdo punti in classifica e non li do agli altri e cerco di aggiustare però che sia un teorema elaborato da lui non credo proprio no è il teorema della prudenza è chiaro che poi non è che c'è un teorema corini non è che l'ha scritto a tavolino ci mancherebbe anche poi sono state diverse le partite in cui il palermo ha finito in avanti cercando l'arrembaggio il gol all'ultimo minuto quindi non c'è neanche un'impostazione secondo me di questo continuate a scrivere però ricordatevi anche per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora condividete la diretta sui vostri profili e soprattutto interagite cuoricini se ritenete che il futuro del palermo sia playoff e quindi un buon futuro o se non ci credete mettete la faccina arancione quella arrabbiata e così vediamo poi alla fine di capire da che parte è stata ancora commenti allora ma voglio partire siete in tanti come sempre di questo vi ringraziamo io partito che si ricorda un po il discorso stiamo facendo a cagliari per non perdere quindi e uscire con un pari perché la mentalità la classifica portano a pensarlo è una domanda che rivolge a noi chi vuole rispondere io penso che il palermo poco fa forse non mi sono spiegato bene con i tre punti ormai vincere è assolutamente importante cioè non tu puoi anche perdere due partite poi ne vinci due sono sei punti sei punti ragazzi quindi il palermo a cagliari deve andare intanto per vincere poi poi chissà che il cagliari non sia più forte o chissà che cose come la partita ma io non mi accontento mai io sono dell'idea che da allenatore non mi accontenterei mai a meno che non si tratta faccio un punto e vado in serie a solo in quel caso lì lo capisco continuate a mettere cuoricino faccina io sto mettendo un altro cuoricino sono sbilanciato sul cuoricino volevo con l'aiuto della regia poi e così introduco un altro aspetto di questo primo argomento e guardando su stadio news che il sito specializzato sulle cose del palermo vi volevo segnalare un pezzo con cui il giornale è stato aperto stamattina cioè 8 maggio 2022 la data in cui praticamente cominciò tutto un bel pezzo scritto da roberto parisi in cui si racconta questo anno vissuto a 300 all'ora con tantissime cose 8 maggio dello scorso anno non avevamo ancora fatto i playoff praticamente e sarebbe successo poi quel mese clamoroso poi la cessione societaria e poi il campionato di serie b e adesso i playoff quasi un segno del destino abbiamo citato in maniera ben augurante questo questo anniversario chiamiamolo così fabrizio 8 maggio dello scorso anno ti ricordi si stava risvegliando la primavera calcistica palermo ma ancora eravamo lontani c'era una speranza flebile che stava spuntando fuori ma ancora tutto dove essere scritto diciamo io non so se è stato possibile vederlo però aspetta la regia mi sta sottoponendo un altro pezzettino sto vedendo dovete sapere che da oggi ho un monitor talmente grande di fronte a me che mi vedo in 180 novantesimi non so come come dirlo è grandissimo quindi sono quasi confuso ecco questo è il pezzo che abbiamo visto poi c'è un altro pezzo che abbiamo però pubblicato da poco su stadio news poi ovviamente lo andrete a guardare con più attenzione quando vorrete ma sono tutte le combinazioni di cosa può succedere fra due domeniche fra due settimane anzi perché l'ultima partita si gioca di venerdì e non di domenica cosa potrà succedere perché il palermo rischia di arrivare a pari punti con altre squadre e quindi di andare a fare classifica avulsa classifica avulsa che penalizzerebbe il palermo in tantissime circostanze noi abbiamo fatto un lavoro pazzesco noi sarebbe un usurpare diciamo il titolo ad andrea zito che si è messo di buzzo buono nelle ultime 12 ore e il grande andrea zito quando si mette di buzzo buono fa le cose per bene e ci ha prodotto questo pezzo palermo ai playoff bisogna evitare le classifiche avulsa all'interno troverete un bel po di roba che riguarda tutte le possibili combinazioni a 2 a 3 a 4 a 5 ed è comunque abbastanza evidente che è quasi inutile che ve lo dica che da dove c'è il venezia nelle combinazioni il palermo che ha perso sia l'andata che al ritorno sarebbe logicamente penalizzata però poi vediamo a proposito di giornali poi segnalerei anche e qua facciamo un altro tipo di promozione segnalo anche blog sicilia che nella sua pagina sportiva non so se ce l'abbiamo anche in grafica c'è un pezzo di edoardo ullo sul palermo che è padrone di se stesso ce l'abbiamo eccola qua e poi vedete la striscia verde lo suggerisco è il podcast sul palermo noi abbiamo anche la versione podcast per sentire la trasmissione tra l'altro una versione che sta andando molto bene incontra il gradimento soprattutto di quelli che poi ascoltano la trasmissione facendo altre cose oppure guidando la macchina o facendo altre cose domestiche allora abbiamo perso anche qua un po di tempo però era doveroso secondo me entrare diciamo in in questo mood quindi guardare anche alle combinazioni dirette salvatore diceva quattro punti e giuseppe diceva anche tre giuseppe dicevi anche tre possono bastare però ricordiamoci che sulle classifiche avulse il palermo non può sguazzarci troppo sì beh era quello che dicevo la settimana scorsa cioè per me il palermo va in vai playoff se vince le due partite casalinghe che che restano una l'ha portata a casa e ora poi poi dopo cagliari mancherà quella quella di quella col Brescia fermo restando che sono perfettamente d'accordo con Totò quando dice che il palermo deve andare deve andare a Cagliari per vincere non senza fare troppi calcoli cioè non non è una situazione che in questo momento ti come dire permette di fare così tanti così tanti calcoli a mio modo di vedere noi possiamo stare qui a sbizzarrirci a fare discorsi eccetera però secondo me la squadra di ragionamenti ne deve fare altri a maggior ragione ripeto dopo che ti sei scrollato di dosso l'ansia di tornare alla vittoria due giorni fa contro la spalla Fabrizio messaggi allora sono tantissimi e sono andati in accumulo dunque cominciamo da qui andiamo con Ferruccio Vunovic buon pomeriggio a tutti io sono convinto che andiamo ai playoff lì sarà un discorso a parte che con il campionato potrebbe entrerci poco forza Palermo Giuseppe Baiardi la spalla è la peggiore squadra vista alla favorita Walter Guccione complimenti alla squadra tecnica però scusami 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 questo fa parte di un messaggio che io posso anche accettare e sono d'accordo che la spalla ha giocato malissimo però la spalla veniva da 5 risultati utili consecutivi con 7 punti fatti di più del Palermo a volte guardiamo anche al resto non dobbiamo cercare di travisare la realtà per dare forza a un proprio convincimento anche perché anche il Benevento prima era la peggiore squadra vista al Barbere prima ancora del Benevento quando non si vince sono tutte peggiori le squadre solitamente nella percezione dei tifosi allora eravamo qui Walter Guccione complimenti alla squadra del tecnico per la perseveranza nostrata adesso tutti a Cagliari per combattere poi c'è Mario Zumo che si rifà un tuo intervento iniziale Guido c'è ben detto a mio avviso si dà troppa importanza a ciò che scrivono i pochi contestatori da tastiera facendoli passare per la maggioranza sono quelli più rumorosi è vero però noi passiamo tutti i commenti quelli buoni e quelli cattivi non abbiamo nessuna siamo soltanto contrari alla inciviltà linguistica agli insulti gratis che spesso non sono motivati per Federico Cordaro i primi a crederci devono essere i giocatori e l'allenatore Manu Remu ottima la salvezza ottenuta ringraziamo il genio per il buon lavoro ma per il prossimo anno se ne deve andare perché la ci aspetta e lui non è in grado ma io questo ancora non veramente non non ne sarei così sicuro ha fatto quello doveva fare quest'anno fino a ora magari anche qualcosina in più se cambia chiaro che la squadra va cambiata non è questa la squadra bisogna vedere anche qual è l'investimento del city group per un campionato che certamente dovrà partire dalla certezza dei playoff alla probabile promozione pietro ferina a me sembra che in prospettiva playoff tra le squadre che precedono il palermo nessuno è nettamente superiore pur avendo qualcosina in più quindi se bari cagliari e parma sono teoricamente superiori poi si possono battere come è successo anche in campionato se qualcuna insomma è caduta anche se in casa solamente poi c'è antonio lupriore che dice sono coriniano sto andando avanti tiriamo fuori tutti corini e il corinismo che c'è in voi piero mandracchi anche lo scorso anno c'erano squadre tecnicamente superiore ai playoff e questo è giusto infatti poi il palermo è riuscito a ribaltare noi nonostante eravamo terzi io non ero molto fiducioso no 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 guardavo al padova guardava l'alessandria guardava le altre squadre ma anche la stessa ferro al pisalò la reggiana che non è arrivata ad incrociare non sicuramente più accreditate del palermo allora io vorrei mandare questo aspetta siamo in coda siamo in chiusura e la prima parte loro mandiamo la ripresa un attimo soltanto perché prima della pubblicità che ci dà da mangiare e noi diciamo sempre grazie io vi controllo se cambiate se vi alzate vi accuso e volevo salutare il castedaccia sd che si è salvato quest'anno dell'eccellenza mi hanno chiesto ma ci saluti come come castedaccia allora perché no tutti i saluti sono ben bravo il castedaccia col presidente francesco d'antoni col direttore generale enzo palmeri col direttore sportivo salvorifici team manager mauro gagliano e l'allenatore marco mineo si sono salvati con comodità lo scorso anno avevano ottenuto anche una promozione fantastica quindi una bella realtà del calcio palerbitano salvatore tu castedaccia la conosci bene e quindi ti associ ai nostri ti associ ai nostri ai nostri applausi per il castedaccia pubblicità eccoci di qua vorrei salutare oltre a stadio news blog sicilia vorrei salutare anche gli amici che ci seguono e sono tanti per la verità su video regione canale 14 del digitale terrestre che ci fa ovviamente molto piacere rimbalza questa trasmissione ritenendola utile per il confronto fra fra una community che sempre più vasta a proposito di community devo dire che poco fa ho citato andrea zito e i suoi calcoli su su stadio news sul pezzo con tutte le combinazioni che tu stai studiando no perché poi in materia di studio come no diciamo dei calcoli quanti messaggi stanno arrivando perché qualcuno in fingardo della redazione ha scritto calcoli renali va bene l'umorismo fa fa sempre bene con le notizie vorrei aggiungere anche un'altra cosa che il city group nel frattempo ha acquistato anche il bahia in brasile una società ovviamente diciamo che rappresenta un bacino d'utenza mostruosamente grande con grande storia mentre a proposito di city group il trovai e trova anzi per citarlo alla francese sta lasciando la serie a francese ormai la sua salvezza è veramente in bilico si spezzerà il filo la prossima settimana è una realtà diversa da quella che può essere palermo ci sta in mezzo anche il girone spagna ma palermo comunque è un'altra cosa chiaramente per il city group che però vorremmo ogni tanto sentire alimentare anche l'entusiasmo allora siamo di nuovo tutti quanti qui nessuno quasi nessuno si è allontanato durante la pubblicità e questo non possiamo che sottolinearlo con piacere tu stavi dicendo prima volevo ripartire da un messaggio che mi chiami in causa di leonardo ferdico rosanero che il nostro stoccatore di fiducia affezionato in cui nel quale mi chiamo in causa dice signor vitale non facciamo paragoni con lo scorso anno quella squadra è arrivata con una forma fisica e mentale enorme questa squadra ha parecchi limiti tecnici diciamolo pure intanto il mio paragone non è riferito all'aspetto tecnico e mentale ma era riferito al fatto che i playoff li ha fatti da posizione favorevole l'anno scorso il palermo perché c'era anche stata come quest'anno una squadra penalizzata anzi di più perché è stata cancellata altrimenti il palermo non avrebbe disputato i playoff da terzo poi possiamo aprire tutti i discorsi sui limiti tecnici e tattici però dal tuo stesso messaggio vinciamo che la squadra se è ben supportata da un punto di vista mentale forse può dire la sua anche ai playoff non essendo la favorita poi se vuoi continuo con i messaggi sì sì ancora un paio di messaggi perché no valter buccione ci chiede chi schierereste a cagliari ricordiamo che a cagliari non ci sarà brunori perché con il cartellino giallo di sabato andrà incontro al cartellino inutile per la verità ma un cartellino anche molto voluto dall'arbitro va a dare una spinta al portiere che non c'è motivo sono sono opinioni poi federica cordaro oltre i limiti non migliorati ancora da corinia anche un discorso mentale adesso vediamo se questa squadra giochi con la mentalità sgombra ormai non c'è più niente da perdere poi c'è come chico mangia lo russo chiede più spazio per video lo vedo fresco e con una gamba ne parleremo rispetto a tutino valentino berizia dice anche se andiamo ai playoff a cosa serve a illudere i tifosi la società non ha alcuna intenzione di andare in serie a guardate la fine del trou a per loro dopo il siti viene il bahia beh allora no questo non è così però se mi chiedete a me il palermo va nei playoff quante possibilità ci ha vi dico poche almeno questa è la mia impressione ma vi avrei detto poche anche lo scorso anno per la verità e questo è il solito discorso dopodiché un obiettivo te lo devi porre la salvezza del primo obiettivo i playoff erano la ciregina sulla torta la promozione in serie a sarebbe oggettivamente un un miracolo però mi pare che per quanto sia un po cambiata l'atmosfera c'è sempre un un tocco di disfattismo nei confronti di questo palermo che fa dannare però qua apro il secondo argomento della discussione ecco qua la regia ha già messo il titolo i tifosi da stadio battono i tifosi da tastiera perché non è possibile che vanno 21 mila persone allo stadio che sono quelle che poi alimentano la passione che sostengono la squadra e che poi criticano anche il palermo con buon diritto ho sentito fischi dopo la partita con il benevento che erano fischi secondo me meritati per il palermo fischi dopo la partita con il cosenza fischi dopo la partita con la ternana però poi gente che tornava perché il dovere del tifoso è quello di sognare da una parte salvatore mi ascolta e so che sfondo una porta aperta il tifoso sogna il tifoso può anche pretendere ma deve sostenere mentre invece poi c'è un aspetto che è quello dei leoni da tastiera o tifosi da tastiera che sono sempre molto inclini al commento feroce anche linguisticamente sgradevole spesso che si moltiplica in occasione delle sconfitte si riduce in occasione delle vittorie e che rappresenta non soltanto un fenomeno legato al tifo e legato a palermo ma è semmai un fenomeno legato ai social che però non mi finisce di dare fastidio perché si può esprimere una critica a corini o al presidente o a un giocatore in termini assolutamente civili salvatore come la vivi tu che non so quanto sei social però sei abbastanza social e quindi vedi un po anche le differenze che ci sono meno male che vincano i tifosi allo stadio guarda è proprio giorni alcuni giorni fa favo durante un'intervista massimiliano lo conosciamo un po tutti no mi diceva delle cose sì mi diceva delle cose interessantissime per esempio io sono per il calcio del nonno che che prende il bambino sotto braccio gli fa capire cos'è l'affetto per una maglia che non è il calcio del divano è soltanto un punto di vista romantico ma lui dice a me piaceva vedere la partita dagli stadi perché sono gli occhi della della tua telecamera dico certo non possiamo fermare l'evoluzione però è chiaro che a stare sulle poltrone il giudizio cambia tra quelli che scrivono sulla tastiera ci sono alcuni che vanno allo stadio altri che non ci vanno la maggior parte probabilmente vede le partite in tv o addirittura non ha mai seguito né un allenamento né una partita e legge titoli di giornali o del web pensa di sapere tutto sì direi di più giuseppe spesso tu che sei sicuramente più social anche per questioni di lavoro spesso neanche neanche cioè guardano i titoli ma neanche aprono i pezzi leggono una parola e subito c'è il l'insulto la critica spesso anche ingiustificata e questo purtroppo non riguarda solamente diciamo articoli e pezzi che riguardano lo sport ma anche diciamo temi e argomenti più seri però non apriamo non apriamo questa maglia guarda però scusami scusami giuseppe io però la maglia la apro un pochettino perché fa parte anche del nostro mestiere di comunicatori e quindi di trade union fra l'evento sportivo in questo caso e il pubblico poi ci possono essere anche logiche diverse fece scandalo se vi ricorderete gli insutti al presidente mattarella che poi furono perseguiti con condanne penali però dico la logica è anche comprendere spiegare alla gente che i concetti si possono dire in varie maniere ma soprattutto che ci sono anche delle responsabilità penali per chi va oltre cioè se io dico che monastra è un cretino io alla fine ormai ci ho fatto anche il callo però è sempre un insulto che presupporrebbe una querela quindi il fatto di poter predicare fra virgolette datemi il ruolo di predicatore una maggiore continenza dal punto di vista linguistico fermo restando che poi i pensieri non vengono mai travisati io che mi occupo anche di passare i commenti sul sito di stadionews tante volte sono costretto o a censurarli o a cestinarli che già di per sé è una cosa che tendenzialmente mi dà fastidio però capisco che ci sono dei commenti fuori legge scusami giuseppe ti faccio continuare no guido più che altro tornando alla primissima domanda diciamo di inizio puntata quale faccina metteresti io più che il cuoricino o la faccia arrabbiati io metterei la faccia che pia la faccina che piange alle risate perché appunto proprio per questa ragione qui che non notiamo da inizio dell'anno un totale squilibrio di contenuti di giudizi che poi spesso sono dettati dall'umore se il palermo vince o non porta a casa il risultato quindi oggi stiamo tornando a raccontare una esplosione di una nuova esplosione di entusiasmo con i play off che si sono magicamente di nuovo riavvicinati in questo momento il palermo sarebbe sarebbe dentro purtroppo c'è e l'era dei social ha enfatizzato ancora di più questo modo di fare c'è un totale squilibrio nel nei nei giudizi la verità la verità è questa sì sono d'accordo però c'è anche un linguaggio io penso che molti di quelli che scrivono cose indicibili poi a casa non si esprimono in questa maniera fabrizio però anche tu sei uno abbastanza social e anche per lavoro corini che ne parlavamo l'altra volta è stato un po il comunicatore ufficiale del palermo nel senso che tutto quello che accade di buono e di brutto lo traduce lui nelle conferenze stampa periodiche che che il palermo organizza e io devo dargli atto non voglio incensare corini ne voglio criticarlo i fatti parlano da soli quindi un campionato complicato con momenti buoni momenti brutti però gli devo dare atto di essere stato estremamente paziente professionale e lucido in tanti momenti perché non è bello essere il parafulmine tra l'altro da vecchia gloria del palermo di un popolo che non corrisponde a quello dello stadio ma che continuamente ti dice vattene 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 uno può dire corini per me non è all'altezza però vattene non capisci niente di calcio mi pare che sia una cosa un po' diversa quando non addirittura poi non sfociamo gli insulti no lui sotto questo punto di vista penso sia stato incomiabile non si è mai sottratto alle domande un po scomode difficili anzi anzi ha cercato sempre di dare una spiegazione riguardo al suo punto di vista riguardo da certi argomenti tecnico tattici alla preferenza di un giocatore piuttosto che un altro quindi sotto il profilo comunicativo secondo me non si può dire niente anzi secondo me ha fatto di più di quello che avrebbe dovuto fare beh a volte un po ripetitivo una cosa se mi permettete certo che ti permettiamo è uno come corini l'anno prossimo non vede l'ora di avere ancora più responsabilità addosso nel senso non vede l'ora di avere una squadra più pronta più forte con più ambizioni e quindi di conseguenza anche più responsabilità dell'allenatore non è uno che fugge proprio per quelle ragioni di cui parlava fino a pochi istanti fa fabrizio avete messo unicino facciugierei aggiungerei una cosa che se corini sta bene con i giocatori se corini il punto di riferimento della società l'anno prossimo sarà quello in cui tu puoi sviluppare un discorso che hai già cominciato ha messo a nero su bianco devi soltanto ora definirlo e questa è una cosa importantissima perché le squadre che cambiano e che cambiano gli allenatori molte volte vanno a sbattere contro un muro sì 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 questo è vero ma ecco adesso godiamoci il presente che sembra essere un po più roseo rispetto alle ultime settimane poi si parlerà della squadra da potenziare chi resta e chi va chi ha il contratto e chi no chi è giovane chi è invece è over tanti argomenti che porteranno sul 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 tavolo della discussione il futuro del palermo fra cui fabrizio ci sarà quello del dell'attacco ed è un terzo tema che io volevo affrontare oggi perché dico poi ci sono tantissime cose che ancora secondo me sono perfettibili salvatore diceva della condizione atletica io sono fissato non da quest'anno ma anche dall'anno scorso sulla incapacità a difendere in occasione dei calci d'angolo poi c'è chi dice che la difesa è ancora un po troppo debole e non ha grossi ricambi io però dico che come sempre nel calcio uno dei problemi fondamentali è il gol il palermo ha ancora una volta dovuto ringraziare santo brunori che ha fatto un gol e mezzo praticamente sabato scorso contro la spalla ma dobbiamo anche individuare un poco la spalla perché dietro brunori non abbiamo ancora ben capito quali sono le gerarchie turino e tutino ha giocato più di tutti ma ha segnato poco soleri ha fatto un mese da grande stella anzi devo dire soleri ha trascinato il palermo in un momento decisamente critico video viene utilizzato solo per pochi spezzoni che secondo corini sono anche importanti però è chiaro che un giocatore non lo puoi valutare da 5 10 minuti giocati a fine partita mi pare che l'attacco sia uno dei problemi anche in ottica presente da andare ad affrontare a cominciare da sabato a cagliari che giocheremo senza brunori sì io ero un attimo intento a vedere i numerosissimi messaggi che stanno arrivando come sempre di questo ringraziamo ci accusano di non leggerli tutti ma noi non leggiamo quelle in cui ci sono offese che non hanno senso di essere perpetrate perché si può avere opinioni diversi ma lo so di fare sempre con civiltà riguardo al problema dell'attacco è sicuramente un problema che si dovrà porre corini io penso che per quello visto che abbiamo visto nelle ultime gare la coppia d'attacco sarà composta da tutino e soleri per quanto a me tutino non mi stia facendo impazzire nelle ultime partite però credo di aver intuito che la strada che sta seguendo il tecnico è quello di creare un una coppia d'attacco che abbia un attaccante che faccia più il raccordo che prima veniva fatto da brunori per dare più possibilità a brunori di esprimersi e allora in questo caso tutino può tornare utile per quanto però poi pecca clamorosamente davanti alla porta in molti qua invocano video nella nostra community perché no potrebbe essere una scelta però vista le gerarchie che sono andate avanti per tutta la stagione mi sembra difficile che possa partire dall'inizio a cagliere sono d'accordo con te però secondo me lo invocano perché più che altro c'è la curiosità di capire che ti che pesce buono brutto che carattere ha e questo ancora il pubblico dopo un'intera stagione non ha avuto modo di vederlo salvatore io sabato per esempio avuto difficoltà a fare la pagella a tutino alla fine gli ho messo cinque e mezzo perché gli episodi che contano cioè rigore sbagliato il gol sbagliato a porta vuota e il contropiede nel secondo tempo ovviamente pesano però è anche vero che tutti non aveva giocato male né come dal punto di vista tattico né dal punto di vista motivazionale io partirei da brunori non si discute è peccato che non ci sia a cagliere anche perché avrebbe avuto una bella sfida con la padula insomma serve stata una giornata veramente a loro intestata contro la spalla il protagonista che è stato brunori e peccato non si discute tu dici peccato che non abbia un partner all'altezza ragazzi tuttino ancora una volta non è stato non è stato all'altezza della situazione non mi sembra un elemento di carattere né di concretezza attenzione a delle qualità enormi cioè non bastano le giocate per il per il pubblico o poi se hai visto quando sbaglia finisce per adagiarsi brunori è un trascinatore più fa e più vuole fare corre dappertutto è un nuovo squadra il gesto di altruismo nei confronti di tuttino è significativo e tuttino non può sbagliare occasioni del genere i colpi di tacco vanno bene ma l'importante è fare gol e contro la spalla quel terzo gol era importantissimo perché poi come hai visto la partita è stata riaperta ora chi è che deve giocare io ti dico che chi è lì il sostituto di brunori ditemelo voi ma secondo me sarebbe soleri soleri che non era nemmeno preso in considerazione prima perché un conto se chiedi a me il mio giudizio un conto se chiedi a me di interpretare colini no perché sulla carta penso che loro abbiano preso anche video perché un giocatore che sa stare anche lì davanti no allora allora io dico che video meriterebbe una un'occasione una chance una sola volta insomma giocare giocare per per la squadra tutti i 90 minuti insomma mi sembra mi sembra che per educazione no per il fatto che si sia presentato sempre in maniera impeccabile lo meriterebbe al contrario io questo ragionamento lo condivido salvatore anche perché guardare video in partite che comunque hanno una certa importanza per esempio cagliari in trasferta contro una grande squadra contro una buona difesa capire anche in prospettiva futura video che che aiuto ti può dare perché è chiaro che poi per esempio tuttino ha anche una formula contrattuale formula eh di riscatto abbastanza onerosa se non sbaglio fabrizio sì ma in questo minuto non è che tu guardi chi non ha contratto eccetera in questo momento tu devi andare ai playoff e per andare ai playoff ci vogliono i giocatori più in forma e più all'altezza della situazione poi questo dipende da corini giuseppe tu da che parte stai ma io credo che diciamo quello che seguirà corini appunto un po l'andamento delle gerarchie di quest'anno come diceva giustamente fabrizio fermo restando che sono d'accordo video è uno è un giocatore che in questo momento secondo me ha anche dimostrato di meritare un po di di spazio nelle ultime partite a mio parere non è entrato non è entrato male rispetto agli altri due attaccanti che partiranno per cagliari eh tuttino e soleri a mio parere ha una tecnica è un'impostazione fisica che gli permette di difendere meglio la palla rispetto ai suoi ai suoi due compagni mi riferisco quando prende per esempio palla spalle spalle alla porta questo anche questo secondo me un fattore da che corini dovrà dovrà considerare però francamente non mi aspetto clamorose sorprese essendo la mia idea la vuoi sapere la mia idea fabrizio la vuoi sapere davvero io sono ancora più estremista di tutti quanti e quindi credo di essere anche abbastanza distante dal pensiero di di corini perché sia tu che giuseppe avete tradotto il pensiero di corini avete ipotizzato quello che probabilmente succederà eh sabato a cagliari salvatore ha dato un'idea io dico di più a volte il calcio è strano abbiamo pianto una settimana quando alla vigilia della gara col modena sapevamo di non poter puntare su brunori risultato cinque gol mai successo in questa stagione è chiaro che ci possa essere la coincidenza però quando guardi poi le partite dici che il calcio a volte è strano eh comunque non tutto avviene per caso chi sono i giocatori più pimpanti per ora del palermo buttaro e sala che sono quelli che per altri motivi per infortuni per carità hanno giocato meno e sono i più freschi vido potrebbe dare un contributo di freschezza notevole non so se ci sono altri giocatori che potranno anche per necessità entrare e dimostrare che con la loro freschezza atletica in un momento in cui la condizione atletica diventa fondamentale potrebbero dare un un loro contributo questa era la mia opinione però conta fino a certo punto poi sentiremo curini che scelte fa no è una lettura che ci sta comunque video è una candidatura forte da parte dei tifosi e lo vorrebbero vedere in campo eh dall'inizio un po' come state dicendo tu eh salvatore allora partiamo da a me mi fa ridere un sto guardando pure io spio ogni tanto no eh soleri mi sembra in calo vorrei sapere in calo da che visto che praticamente nelle ultime tre partite poi ha giocato spiccioli di minuti in partite anche abbastanza orientate comunque vai e poi comunque ci sono opinioni contrastanti perché eh Maurizio di Martino dice video in forma credo che potrebbe stare bene con tutino mentre soleri lo vedo bene nel secondo tempo era questo il messaggio a cui tu ti stavi riferendo forse sì cioè c'è chi lo vede come arma per spaccare le partite un po' come ha fatto eh per tutta eh la stagione eh scorso poi c'è chi ritorna sul discorso del tifo da stadio tifo da tastiera come carogero marchesi io ho pagato più di mille euro per tre abbonamenti in tribuna laterale se il Palermo gioca male Corini non è capace di dare gioco io ho il diritto di contestare sia sui social che allo stadio ma ci mancherebbe altro. Assolutamente sì devi farlo ma eh ripeto con il linguaggio corretto e comunque poi proprio chi va allo stadio ha più diritto degli altri a contestare perché vede la partita sostiene il Palermo eh e quindi insomma è questo il rapporto corretto io me la prendo un po' di più con quelli che non guardano il Palermo magari non guardano neanche le partite in televisione e poi però vomitano insulti. Ecco qui un altro nostro amico Lestandro Zocco che dice eh per Cagliari eh dato che Brunari non c'è sarebbe opportuno mettere Soleri e eh Vido ehm insomma tutti non 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 incontra però diciamo no 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 purtroppo no ma giustamente tutto quello che si è visto è anche normale. Per quanto possa essere un sondaggio anomalo quello nostro serve anche per questo. Noi siamo arrivati alla conclusione io però volevo eh ricordare intanto di eh prendere sempre più confidenza col canale quattordici del digitale terrestre con Videoregione che rimbalza questa nostra trasmissione e quindi solo per questo merita eh un'attenzione particolare. Se volete vedere la faccia di Geraci in televisione sul Videoregione canale quattordici altrimenti niente. Poi volevo ringraziare Blog Sicilia e Stadio News che come sempre fanno un lavoro dietro da Quinte straordinario alla regia Fabio ed Emanuele tutti quelli che collaborano con questa trasmissione che sta avendo sempre più successo. Ricordatevi che c'è anche il podcast sulla pagina eh sulla home page di eh Blog Sicilia e non avete ancora eh tutto stabilito cuoricino o o cuoricino o faccina brutta. Io poi andrò a controllare poi nelle prossime ore chi eh chi ha votato che cosa così vediamo un po' di eh qual è il vostro orientamento. Nel frattempo c'è chi ci segue dal Canada e ci saluta come totocent'anni. Totocent'anni eh anche duecent'anni visto che ci segui dal Canada chissà che ora è là insomma è abbastanza presto. E grazie dal Canada ci seguono comunque da eh un quattro cinque per cento statisticamente ci segue da fuori Europa e di questo siamo veramente felici. Abbiamo sbordato. Continuate a guardare i commenti nella nostra community. Non siamo riusciti a leggere tutti. Ciao Fabrizio, ciao Giuseppe, ciao Salvatore. Grazie a tutti. Arrivederci. Ciao.